Operazione dei carabinieri di Arezzo, recuperati 60 kg di hashish che, con la possibilità di realizzarne parecchie decine di migliaia di dosi al dettaglio, avrebbero potuto fruttare ai trafficanti ricavi per oltre 500 mila euro. I carabinieri, ieri sera intorno alle 21, hanno intercettato un'auto nella zona periferica di Arezzo, in via Calamandrei, dalla quale, dopo un accenno di fuga, è stato lanciato un involucro. Una volta fermata l'auto, i militari si sono accorti che era condotta da un quarantenne di origini albanesi, trovato in possesso di 5 kg di hashish suddivisi in 5 involucri. Una volta scattati gli accertamenti, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione in un capannone in disponibilità del quarantenne, rinvenendo 55 kg della stessa sostanza. Il quarantenne è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti.